Volevo aggiornarvi sulla questione relativa alla Kyoto Animation, infatti proprio questa mattina Shinji Aoba, 45enne, è stato condannato a morte per aver appiccato il fuoco allo studio di animazione Kyoto Animation nel 2019 causando la morte purtroppo di 36 persone in uno degli omicidi di massa più gravi del Giappone. Il tribunale distrittuale di Kyoto ha ritenuto Shinji Aoba colpevole di aver incendiato l'edificio di Tre Piani a causa di un ressentimento nei confronti di questo studio di animazione. Affermava che lo studio infatti aveva rubato le sue idee dopo aver respinto una proposta di romanzo in un concorso annuale organizzato dallo stesso studio. Non c'è alcuna prova che lo studio abbia davvero plagiato il suo lavoro. Ad ogni modo Aoba ha subito anche gravi ustioni su buona parte del corpo. Giovedì mattina 409 persone si sono messe in fila e manco fosse la lotteria per ottenere uno dei 23 posti disponibili per ascoltare la sentenza di Aoba. Alcuni membri della famiglia dei defunti erano presenti. Il focus del processo in particolare era capire se Aoba fosse mentalmente competente per essere ritenuto penalmente responsabile. Il giudice presidente Keisuke Massuda ha dichiarato che Aoba non era mentalmente incompetente o in uno stato ridotto al momento del crimine giudicando che fosse penalmente responsabile per ciò che aveva fatto. I pubblici ministeri avevano affermato che era sufficientemente competente e aveva sostenuto che la pena di morte fosse l'unica opzione data la gravità del suo crimine. Nel frattempo la difesa aveva sostenuto che dovesse essere assolto o ricevere una pena ridotta a causa della sua capacità mentale ridotta. Due psichiatri hanno però testimoniato in tribunale riguardo la sua condizione mentale. Il 18 di luglio del 2019 Aoba ha acquistato 40 litri di benzina dopo di che è entrato nello studio della Kyoto Animation. c'erano animatori che hanno lavorato lì per 20 anni immaginatevi. Ha versato benzina sui lavoratori gridando andata all'inferno e ha dato fuoco all'edificio con un accendino. L'incendio ha avvolto in pochi istanti l'edificio causando purtroppo il decesso di 36 persone e ferendone altre 32. In una sessione di dicembre si è scusato con le vittime e le loro famiglie e ha dichiarato che avrebbe dovuto espiare attraverso la pena di morte. Ha anche detto a settembre che non pensava che così tante persone sarebbero morte. Prima che la sentenza fosse pronunciata il giudice Massuda ha chiesto a Aoba che era su una sedia a rotelle e indossiava una tuta blu se avesse qualcosa da aggiungere a cui ha risposto no non ha niente da dire. La sessione è stata sospesa per circa 30 minuti fino alle 11 del mattino. Vabbè più o meno questi erano gli aggiornamenti su questo caso. Ovviamente è una situazione molto delicata e anche difficile esprimere un'opinione al riguardo di tutta questa faccenda perché veramente mi lascia senza parole. Mi ricordo proprio vividamente quando è successo questo fatto. È stato veramente una cosa terribile che ha lasciato il segno. Volevo aggiornarvi. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate se vi è sembrata secondo la vostra etica una sentenza giusta o se magari avreste preferito un verdetto diverso. C'è da dire che comunque sicuramente ha sofferto in questi anni e comunque anche se adesso c'è stata la sentenza ci vorranno degli anni molto probabilmente prima che questa avvenga. Da una parte comunque lui penso che anche sul suo corpo queste ostioni che lui si porta in un certo modo contribuiranno anche a ricordarsi ancora più vividamente tutto quello che ha fatto perché immaginatevi è su una sedia a rotelle adesso soffrirà grandi dolori fisici anche soltanto guardarsi allo specchio immaginatevi cioè porta proprio sul suo viso proprio gli orrori di ciò che ha commesso. Anche questo penso che sia qualcosa che molto probabilmente lo farà sentire come giusto che sia ancora più in colpa per tutti i crimini che ha commesso. Viterò aggiornati se ci fossero delle novità molto probabilmente qui in Giappone adesso usciranno degli speciali con delle nuove indiscrezioni. Mi è capitato comunque di seguire questa storia. Alcune delle informazioni che ho visto è che a un certo punto sembra che si sia anche invaghito o innamorato della sua infermiera durante questa permanenza. C'era questa news però non ho trovato troppo riscontro quindi non ve l'ho non ve l'ho portata. Una cosa interessante è che durante il processo è anche emerso che quando stava per dare fuoco ha avuto un istante in cui si è ripensato e lui ha detto anche i villan anche come dire i cattivi a volte hanno un bricciolo di umanità una cosa del genere ha detto durante il processo. Ad ogni modo vabbè questa era la notizia di oggi fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. A presto!